Un mese fa, il 15 settembre, l'uccisione di Don Roberto Malgesini, colpito a morte davanti alla sua parrocchia di San Rocco, accomoda a un uomo con disturbi psichici. La comunità diocesana, guidata dal vescovo Oscar Cantoni, farà memoria del sacerdote di 51 anni questa sera, con una santa messa alle 20.30, nella chiesa parrocchiale di San Rocco, dove Don Roberto esercitava la carità verso i poveri e i migranti. Proprio nel piazzale davanti alla chiesa, un migrante, uno dei suoi poveri, lo ha ucciso. L'uomo, nella confusione mentale, si è poi costituito ai carabinieri. La vicaria di Como sta pensando di ricordare Don Roberto Malgesini in ogni chiesa il 15 di ogni mese a partire da oggi. Il presidente Sergio Mattarella, il 7 ottobre scorso, ha conferito la medaglia d'oro al merito civile alla memoria del sacerdote. Testimone della carità verso i poveri, lo ha definito Papa Francesco, il quale proprio ieri, prima dell'udienza generale del mercoledì, ha incontrato la famiglia di Don Roberto, accompagnata dal vescovo di Como. Monsignor Cantoni. C'erano Mamma Ida, Papa Bruno, la sorella Caterina e i fratelli Enrico e Mario. La carezza del Papa è stata una grande consolazione per loro, ha riferito il vescovo, anche perché attraverso il Papa era tutta la chiesa che riconosceva il loro figlio. Quindi hanno avuto un segno grande della tenerezza della chiesa nei confronti di coloro che soffrono.